Emergono dettagli rilevanti dall'ultimo testamento del Cavaliere Silvio Berlusconi, tra cui un lascito considerevole di 100 milioni di euro destinati alla sua attuale compagna, Marta Fascina. Questo, il terzo testamento del Magnate, è stato portato alla luce mercoledì ad Arcore, con la stessa Fascina presente, assieme a due testimoni, Antonino Battaglia e Stefania Gagliani. È stato reso noto che Marta Fascina stessa avrebbe consegnato l'ultima volontà del Cavaliere al notaio a rigoro veda ad Arcore. Il documento include anche disposizioni a favore di Marcello Dell'Utri e dell'ex compagna del Cavaliere. Questi dettagli emergono dalla pubblicazione del testamento, resa nota oggi. Nel documento notarile, sembrerebbe che Marta Fascina abbia consegnato una busta non sigillata, su cui si legge ai miei figli e la firma S. Berlusconi, contenente un foglio intestato, con entrambi i lati scritti con inchiostro nero, apparentemente da una sola mano. Questa busta è stata considerata come il testamento olografo del signor Silvio Berlusconi e al notaio è stato chiesto di pubblicarlo. È stato rivelato che Berlusconi avrebbe scritto questo testamento a mano mentre si dirigeva al San Raffaele il 19 gennaio 2022. Nella missiva, rivolta a Marina, Pier Sildio, Barbara ed Eleonora, l'ex premier scrive «Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare, vi prego di prendere nota di quanto segue». Inoltre, elenca le donazioni destinate al fratello, a Marta Fascina e a Marcello Dell'Utri, «Per il bene che ho voluto loro e per quello che loro hanno voluto per me». Berlusconi conclude la sua lettera con un caloroso ringraziamento e dichiarazioni d'affetto per i suoi figli. «Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà». Questo lascito a Marta Fascina rappresenta una significativa decisione testamentaria che ha catturato l'attenzione pubblica. Il documento svela le ultime volontà del cavaliere, facendo luce sulla sua relazione con l'attuale compagna.